84 anni di storia per la Fiera del Levante, che quest'anno aprirà i suoi battenti dal 3 all'11 ottobre causa Covid-19. Il presidente Alessandro Ambrosi, affiancato dal sindaco di Bari Antonio De Caro e dal presidente della regione Puglia Michele Emiliano, ha presentato quello che è il programma di un progetto che fino a qualche mese fa non si pensava realizzabile. La fase più complicata è la ripartenza, la riapertura di tutte le attività, il rispetto delle nuove regole, il distanziamento, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, i protocolli, ce la stiamo facendo e la riapertura della fiera campionaria, che sembrava impossibile fino a qualche giorno fa, ha anche una valenza simbolica per noi, perché la ripartenza è legata alla Fiera del Levante, la Fiera del Levante è una leva economica, una leva commerciale importante per la nostra terra, per la città di Bari sicuramente, ma per tutta la regione. Una fiera mai vista prima dunque, con percorsi obbligatori nei padiglioni e più di 80 punti vendita nella regione per l'acquisto dei biglietti. Tante inoltre le novità elencate dal presidente della fiera. Abbiamo il Salone dell'Innovazione, che è una novità assoluta, fatta in collaborazione col Politecnico, con aziende, con Maker e quant'altro. Avremo anche il B-Wine, che è il Salone del Vino, di tutti i vini della Puglia, che verranno a esporre i propri prodotti, a venderli, a fare corsi gratuiti per imparare ad assaporare e a conoscere i vini. L'arte e lo spettacolo non mancheranno, come sottolineato dalla campagna di comunicazione, che vede una giovane dai capelli rossi avvolta da un manto verde e pronta a correre, a simboleggiare la speranza e la volontà della nostra regione e dell'Italia di ripartire. L'appello poi del presidente Emiliano a rilanciare al più presto la sanità e l'economia, che solo con l'aiuto delle aziende può garantire un futuro roseo al nostro paese. Noi siamo ottimisti, questo non vuol dire non avere la responsabilità di fare sempre il passo quanto la gamba. Le misure di sicurezza della fiera saranno altissime e quindi noi speriamo che vada davvero tutto bene.